Presidente, la Commissione SEDEC si è riunita, la Regione Abruzzo ha avuto un ruolo molto importante perché siete riusciti a far passare due emendamenti. Parliamo di sport, nello specifico che cosa riguardavano gli emendamenti? Era un tema molto interessante soprattutto per far capire che lo sport è un'attività di inclusione sociale che non ha diritto di cittadinanza e quindi tutti ne hanno diritto ma soprattutto attraverso lo sport si stabilisce un momento di solidarietà, di accoglienza e di integrazione. Insomma di nuovo con i nostri emendamenti inseriti e approvati all'unanimità abbiamo fatto rilevare, riportato all'attenzione l'attività sportiva che riguarda la sfera dell'uomo a 360 gradi. Questo è stato fatto anche in occasione dei campionari di atletica leggera che la città dell'Aquila ha richiesto e che speriamo possa questo accadere come manifestazione nei prossimi anni qui nella città dell'Aquila. La Regione ha colto le potenzialità di questi master di atletica, insomma c'è stato un impegno ben preciso da parte vostra sin da subito perché i ritorni che potrebbe avere questo sull'Aquila ma non solo, sull'intera Regione sarebbero importantissimi. Sì, subito la Regione ha colto questo obiettivo che la città dell'Aquila si è dato ma non solo cogliendolo in termini di partecipazione alle commissioni ma anche partecipando come Regione Abruzzo con finanziamento, con attività, con logistica. Adesso perché noi partecipiamo a questa commissione in una maniera molto attenta che riguarda soprattutto lo sport proprio in funzione dei campionati di atletica leggera che si dovrebbero svolgere qui all'Aquila e perché no pensare di ospitare un momento della commissione un anno prima dello svolgimento proprio per imprimere ancora di più una svolta e nel caso inserire a livello europeo in quei giorni della manifestazione dei campionati di atletica un giro da parte del Comitato delle Regioni qui nella città dell'Aquila.